E' stato un pareggio 1 a 1 questo trasporto in Catanzaro Lido e Monasterace per noi molto amaro perché avevamo intenzione oggi di aguantare la salvezza quasi matematica in casa, purtroppo il Monasterace è venuto qui a vendere cara la pelle, noi abbiamo avuto nel primo tempo un approccio un po' morbido che ci sta caratterizzando diciamo da qualche settimana, forse in virtù dei risultati positivi che abbiamo avuto nella prima parte di stagione nonostante questo abbiamo avuto nel primo tempo qualche occasione oltre a essere andati in vantaggio anche per raddoppiare e poi abbiamo subito il gol dell'1 a 1 su un calcio di punizione all'ultimo secondo nel secondo tempo loro sono stati bravi dal loro punto di vista a perdere un po' di tempo a spezzettare il gioco e noi non siamo riusciti a imporci, siamo rimasti anche in dieci a riprova che la partita è stata una partita particolarmente maschia e combattuta sia da parte nostra che da parte loro purtroppo non siamo riusciti all'ultimo ad agguantare la vittoria che per noi sarebbe stata molto importante sia riguardo alla salvezza sia riguardo a qualche sogno ancora aperto per i playoff adesso non ci rimane che a questo punto fare gli ultimi punti necessari per chiudere questo campionato in tranquillità e poi pensare alla stagione successiva c'è molto rammarico però il calcio è così, non sempre si riesce a raggiungere l'obiettivo che si prova a raggiungere sin all'inizio